La pianta è quell'antivalore che sostiene che siamo più felici se cerchiamo, sia come sia. Abbiamo sacrificato agli antichi dei materiali, ma occupiamo i loro tempi con il Dio, il mercato che governa l'economia, la politica, le abitudini e la vita e arriva persino a finanziare con rate e carte di credito la nostra apparente felicità. Io no, perché io non posso, perché il mio se va meno a due si spacca, come di pescatore. Cosa è la vicina rossa? La vicina rossa? Fai la foto così che si vede un mattone. Sì, sì, no, sto facendo un filmato. Un filmato? Un filmato da mettere su qualche canale YouTube di cibo dell'alpinismo. Mi dico come lo dire. E' bello, eh? Un secondo poi. Buono ragazzi, adesso sì che ti ragiona. Adesso sì che ti ragiona. Vai, 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 vai. Gli attiva quello dopo, se non credo, non è bello essere treppo. Vai, vai. E' una scala senta. E' una scala senta. Stai spiegando il posto. Ehm, saltino numero. Niente più in nato? Sì. Vai, vai. Niente. Vuol dire che è veramente M4. Bellissimo, però c'è... Bellissimo. No, questo me lo devi tagliare. No, 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 questo... No, 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 questo... Vieni! 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 cos'era cos'era pronto fantastico